Per la rubrica di Arteventi News in questa puntata parliamo di fotografia e ne parliamo con un grande fotografo pistoiese ma che ha ovviamente una risonanza a livello internazionale Mario Carnicelli che proprio reduce da un importantissimo riconoscimento ha avuto in questi giorni a Parigi. Mario non ti fermi mai sei di ritorno da una bellissima esperienza a Parigi ma cosa è successo? Ha successo a Parigi che c'era la prima edizione di un premio europeo per per tutti per 16 paesi europei e altri paesi francofoni quindi hanno scelto 300 per la carriera e dopo su questi 300 hanno fatto una cinquina tipo poi premi tipo strega Venezia questa cinquina tra i quali io siamo stati invitati a Parigi per la serata conclusiva dell'estrazione cioè di chi aveva vinto il premio e questo c'è stato mercoledì passato quindi per mia fortuna il premio è toccato a me quindi è stata una bella serata per cui era stata diciamo preparata da alcuni mesi una giuria molto qualificata fra quali c'era anche la famosa attrice Charlotte Rempling e poi altri componenti del Ministero della Cultura francese dipendentemente c'erano circa 200 persone lì alla serata conclusiva tra questi c'era il console italiano a Parigi c'era il direttore dell'Istituto di Cultura Italiana a Parigi quindi la felicità mia ovviamente l'attrazione che poi ha questo premio per cui tante cose saranno diciamo saranno combinate da questo premio quindi si vede dalle richieste e tutto quindi anche Le Monde proprio ieri sabato con il numero speciale dell'inserto sulla cultura c'erano dieci pagine che riguardavano tutto il mio lavoro essenzialmente quello che ha dato diciamo così corpo a tutto è stato il funerale di Togliatti quello che è in mostra a Palazzo Fabrone con la sala permanente quindi quella è stata la chiave di lettura di tutto ma anche le fotografie a New York sì sì c'erano le fotografie americane degli anni 60 c'erano altri servizi però quello che ha dato più diciamo così l'infa a tutto è stato proprio il funerale di Togliatti Mario ma oggi una riflessione da un fotografo professionista come te l'invasione delle fotografie dal digitale che si possono ritoccare cosa tolgono però allo spirito e all'iniziativa del singolo? io penso che non tolgono niente perché quello che conta da ultimo è la foto che abbiamo in mano quindi è quello lì anche perché poi la foto non appartiene al fotografo appartiene a chi la guarda ogni persona può farla diciamo vede con gli occhi propri e fanno le loro riflessioni quindi questo è come il sesso degli angeli quindi quel che conta da ultimo è l'immagine che una persona guarda la tua carriera non si ferma mai hai qualche progetto a breve? ma sì ci sono perché poi col fatto questo diciamo ultimo di Parigi c'è una mostra ci sarà all'istituto italiano di cultura poi a Arles che è la capitale della fotografia mondiale e stanno crescendo altre cose che ora diciamo non posso dire perché non c'è ancora il materiale già non c'è l'esattezza però ci sono altre cose in ballo quindi diciamo questo premio è un volano un volano perché tra questi cinque fotografi tutti di fama mondiale fotografi di guerra di moda e tutto ero quello meno conosciuto diciamo ero lo sconosciuto per cui questo da adito ha un progresso riguardo il mio lavoro e poi come ripeto è che nella vita c'è sempre un dopo è ancora un altro dopo è ancora ancora cioè non finisce mai anche perché poi la percezione è questa qui che il passato è sempre nuovo grazie a tutti Grazie.